Carissimi amici, ben ritrovati all'approfondimento della Scuola del Sabato. Come ogni settimana siamo qui in un piccolo gruppo, proprio come chi nella Chiesa Adventista si ritrova nei gruppi della Scuola del Sabato, per studiare il tema biblico di questo trimestre, che è incentrato sull'Epistola agli Efesini. La lezione numero 3 che studieremo oggi si intitola La potenza del Cristo innalzato e siamo qui insieme alla dottoressa Tamara Pispis, a cui diamo il benvenuto. Ciao Tamara! Ciao, ciao Maria Rosa, ben trovata! E al pastore Richard Eussu, benvenuto Richard! Buongiorno, 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 grazie Maria Rosa! L'altra volta ci avete raccontato molto di voi, quindi oggi cerco di andare subito al tema del nostro incontro, però le prossime volte vi farò delle altre domande, così ci possiamo conoscere meglio. Allora, per cominciare, penso che sia molto bello poter pregare in modo che questi temi possano entrarci nel cuore, possiamo capirli con il nostro occhio di oggi. Quindi non so se posso chiedere a te Tamara. Grazie. Signore Padre del Cielo, è sempre un privilegio ritagliarci un tempo per venire ai tuoi piedi per ascoltare la tua parola. Come sempre, Signore, non è immediato a volte comprendere il testo perché si tratta di un testo antico e quindi dobbiamo veramente metterci all'ascolto doppiamente per cercare di ricostruire il messaggio di un tempo per comprendere poi quale possa essere il messaggio per noi. Signore, aiutaci in questo percorso, voglia tu ispirarci e voglia tu aprirci le menti. Nel nome di Gesù, Amen. Amen. Grazie Tamara, grazie per questa preghiera e vogliamo coinvolgere anche i nostri amici che ci seguono nel continuare con questo spirito di preghiera nello studio di questo tema. Allora, la prima domanda che volevo porre me l'aveva suscitata il pensiero di questo uomo, l'Apostolo Paolo, che ha dedicato proprio la sua vita ad una missione, a questa chiamata per un ministero speciale e anche non facile, in quanto lui era stato proprio chiamato per portare agli stranieri, alle persone non ebree, il messaggio del Vangelo ad una cultura molto diversa, anche la cultura pagana. E lui dice che è prigioniero, leggo dal capitolo 3, versetto 1 dell'Epistola agli Efesini, dice Per questo motivo io, Paolo, il prigioniero di Cristo Gesù, per voi stranieri, lo dice proprio esplicitamente, e dice a loro Senza dubbio avete udito parlare della dispensazione della grazia di Dio affidatami per voi, cioè senza dubbio voi avete sentito che Dio mi ha affidato questo incarico, come per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui più sopra vi ho scritto in poche parole, Cioè il mistero è che io devo parlarvi di questo Vangelo perché dobbiamo essere una cosa sola, no? Ecco, io riflettevo su questo che oggi potrebbe passare il testimone a tutti noi credenti, questo testimone di un annuncio, un annuncio ricevuto, no? Da poter portare agli altri, quindi vedo un uomo, Paolo, che prega per queste persone, dialoga per costruire una relazione, per portare questo annuncio ancora e ancora a persone di altra nazionalità, di altra cultura. In particolare mi colpisce che in questi versetti lui cerchi un po' di scuotere questi credenti perché li vede tentati di rivolgere la loro ammirazione, la loro adorazione ad altro, di trovare dei punti fermi per la loro vita in altre cose fuori da Dio, no? E nella parte introduttiva la scuola del sabato dice proprio questo che si collega a questo desiderio di Paolo. Gli esseri umani sembrano sempre protesi alla ricerca di continua e ulteriore potenza. In contrapposizione con questa ricerca ossessiva di potenza, Paolo prega affinché i credenti di Efeso, tentati di rivolgere la loro ammirazione alle varie forze e divinità della loro cultura, alle altre volte abbiamo fatto degli esempi, no? Sperimenteranno, grazie alla potenza dello Spirito Santo, l'immensità della potenza che gli offre loro per mezzo di Gesù Cristo. Non c'è bisogno di altro, no? È una forza immensa attraverso lo Spirito Santo, quello di cui possiamo godere. Però io lo dico con tanto entusiasmo, ma io faccio parte del problema perché anche io penso di avere delle forze, delle potenze, delle risorse, delle divinità della mia cultura in cui sono cresciuta che possono catturare la mia attenzione e in certi momenti dissogliermi e non lasciare spazio invece allo Spirito Santo. Allora la mia domanda è proprio su questo, cioè quali sono queste forze, queste potenze, queste divinità della nostra cultura in cui proprio un credente può trovare una distrazione importante. Sì, diciamo che, almeno per quello che posso vedere, non si tratta per lo più di divinità come all'epoca, anche se dobbiamo dire che c'è un ritorno del politeismo, c'è un ritorno del politeismo ancora marginale, anche tra i ragazzi, perché è associato a una critica al cristianesimo in quanto religione di una società occidentale che è stata dominatrice e che da quel punto di vista viene contrastata con un altro modo di vedere le cose, quindi dominatrice che, secondo questa visione critica, ha contribuito a far sì che la donna fosse inferiore all'uomo, secondo lo stile patriarcale. Quindi c'è un po' una critica al cristianesimo e quindi in questo senso un recupero anche di un certo politeismo. Però ancora non lo vediamo facilmente, diciamo, in abilità. Io ho letto degli articoli anche che parlavano di un ritorno in alcuni dei nordici, ci sono dei gruppi che... qui ti hai ragione proprio, se sì. Quindi c'è sicuramente un filone, però magari questo filone per noi che siamo all'interno della Chiesa tendenzialmente è meno frequentato, nel senso non ci attira, non ci attrae, anzi casomai rimaniamo allibiti. Però questo non vuol dire che non siamo a rischio, come dicevi tu giustamente. E penso ancora una volta che le divinità del nostro tempo, diciamo simboliche, non siano molto diverse da quelle che avevano i discepoli. Cioè dire, per esempio, allora nella nostra società si dice spesso quella persona si è fatta da sola, che poi è un non senso. Una persona non può mai farsi da sola perché è un essere sociale. Quindi se non è stata la famiglia è stata chi ha fatto il tutoraggio, se non è stata la scuola qualcuno comunque ti ha formato. Quindi già non sarebbe corretto, no? Ma proprio quell'idea di una persona che arriva ai più alti gradi della società e quindi ha anche una determinata ricchezza. La ricchezza ancora oggi, un po' come all'epoca dei discepoli, ci fa pensare, cioè ci porta ammirazione. E insieme alla ricchezza, ecco la posizione, quindi il prestigio che deriva poi da quella ricchezza, è il potere. Sono poi questi tre elementi, no? Il denaro, il prestigio e il potere, no? Il prestigio quindi come gli altri ci vedono, no? Io dicevo appunto che ho sentito in un colloquio un imprenditore al quale veniva chiesto, ah ma che un imprenditore lavorava in un'azienda con un ruolo menageriale e veniva chiesto, ma tu quanti ne hai sotto di te? Cioè il tuo valore, la tua abilità che è terribile, no? L'espressione è già eloquente di sé. È già eloquente per dire a Mappa ha centinaia di persone, quindi ha un potere, quindi vale. Perché poi è quello il punto. Altro è dire quanti ne hai a Mappa, insomma una bella responsabilità, organizzare, coordinare i lavori, è un conto. Ma come per dire tu conti perché? Perché hai persone sotto di te. E tra l'altro poi questa espressione, avere sotto, avere sopra, tra i ragazzi ho visto che si usa anche nei rapporti di coppia. Tu chi hai sotto, chi hai sotto, cioè che poi è anche abbastanza infelice, brutto come termine, però proprio anche nell'ambito della coppia si ripropone l'idea di un dominio, cioè qualcuno che deve comandare. No? E questa per noi può essere una divinità, perché è attraente per certi versi. Una divinità verso la quale, cioè o che guardiamo ammirati, perché ambiamo il potere, o dalla quale siamo schiacciati, come nelle divinità dell'antichità, no? C'era chi le adorava, chi le temeva e prendeva atto di queste divinità, ci sentiamo schiacciati perché siamo comunque all'interno di quella struttura di potere piramidale e noi magari ci sentiamo in basso, ma la struttura non la critichiamo. Gesù la distrugge proprio, cioè la smonta, non c'è. In Gesù è proprio questo che viene a fare, lo spiegherà poi, lo vedremo anche nelle prossime lezioni. E' proprio lì che si vede la divinità. Cioè lui sì che può essere divinità, è lui che è degno di lode, perché lui è l'unico Dio. No? Le altre non sono divinità. Diciamo che mi hai fatto venire in mente un po' nel tuo discorso, pensavo forse anche perché hai parlato dei rapporti anche di patriarcali, sviluppatisi nel tempo dove c'è un dominio della figura maschile sulla donna. Probabilmente, penso io, conoscendo la storia biblica, legata anche al racconto del peccato, dove Eva è un po' la figura che più viene descritta in questo gesto di prendere il frutto, o di ascoltare il serpente, anche se in realtà nel testo sono entrambi in questa situazione. Tuttavia, per esempio, riflettevo che proprio Eva e anche Adamo, il peccato alla fine è quello, è cercare una sicurezza in qualche cosa che è fuori da Dio, oltre a Dio. Cioè c'è Dio che ti ha dato tutto, è lì a tua disposizione. Cioè il Signore è con te, però tu cerchi una prospettiva, una soluzione, di soddisfare un tuo bisogno fuori dalla presenza di Dio, mettendolo, diciamo, in disparte. E penso che quel gesto di Eva, che poi è lo stesso di Adamo, perché anche Adamo per risolvere il suo problema lo cerca al di fuori di Dio, non chiede l'aiuto di Dio, no? Credo che da allora che continua a ripetersi in mille forme, che ognuno di noi si dovrebbe chiedere qual è per me oggi questa cosa in cui io cerco potenza, risorse, ma che mi distoglie da Dio, perché va magari a colmare quel vuoto, quel mio bisogno di sentirmi sicuro, e in realtà mi impoverisce ancora di più. Sì, l'uomo non è mai stato soddisfatto della sua posizione, di ciò che ha in mano. L'uomo è sempre alla ricerca di qualcos'altro, e questa ricerca fa sì che tante volte non riconosciamo neanche quello che il Signore ci ha dato. Il Signore, la divinità, colui che dà tutto, la potenza del Signore che salva, che guarisce, che fa tutto, l'uomo non essendo soddisfatto di ciò che riceve dal Signore, va sempre alla ricerca. Come dicevamo prima, in Geremia, per esempio, io riprendo quel testo di nuovo, quando Dio disse mio popolo mi hanno abbandonato, hanno commesso due mali. Uno, mi hanno abbandonato, due, sono andati a scavarsi loro sedi di cistene. Quindi, vediamo che l'uomo non è mai soddisfatto di ciò che Dio dà. Quindi, che cosa facciamo? Cerchiamo altre risorse. quelle di cui possiamo dire questo è mio. Un facsimile, sì, però... Invece non è la realtà, però mi baso su quello. Infatti, oggi è quello che sta succedendo. Chi lavora, pensa che vive dal suo lavoro. Chi ha soldi, pensa che vive dal suo soldi. Chi ha un bene materiale così forte, pensa che Dio non mi interessa. Quindi, è molto importante riflettere la potenza che il Signore ha. Faccio un esempio. alcuni tempi fa io ho conosciuto un uomo, un imprenditore, datore di lavoro, un datore di lavoro che è ricco, veramente. e una volta è venuto a casa mia, perché spesso le persone mi chiamano per trovare delle sorelle che possono fare lavori domestiche, no? Quindi quest'uomo viene a casa mia, non so come ha fatto, per avere il mio numero, e mi chiese, posso trovare qualcuno della vostra comunità per lavorare per me, perché mia madre non sta bene. Durante il nostro dialogo, questo uomo, ad un certo punto, fece un'affermazione che mi ha sconvolto, perché disse, io sono un datore di lavoro, le chiese, le persone che ci vanno, sono medicanti, si dice? Mendicanti? Sì, perché vanno a chiedere al Signore aiuto. Ah, ecco, la sua concezione. Questo è il suo tema, cioè il suo concetto è quello, vanno a chiedere al Signore, quindi stanno lì a leggere, a pregare, a cantare, finché i Signori gli diano qualcosa. Io, essendo datore di lavoro, ho quasi 25 persone che lavorano nella mia azienda, quindi io sono un Dio per loro. Ha detto così? È così. Ad un certo punto, la mia faccia, cioè il mio colore è cambiato, non lo so da scuro, non lo so se diventavo giallo, cioè perché sono stato sconvolto. Cosa? Sì, 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 è quello che sto dicendo. Ho detto, va bene, tu non avrai nessuno della nostra Chiesa, perché nessun membro verrà servito come fosse un Dio. Va bene? Lui si aggrappa su ciò che ha. Diventa divinità per qualcuno nella sua mente. quindi le persone si aggrappano su quelle che hanno pensando che la loro potenza, tutto ciò che hanno, dipende da questo qua. Gesù ci invita di dimorare in Lui. È Lui la nostra divinità. È Lui il nostro Salvatore. È Lui che ci salva. Non quelle che noi cerchiamo di procurare, quelle che abbiamo. Tra l'altro è molto bello il termine che hai usato, che lo hai ripreso proprio dal Vangelo, dimorare, no? Dimorare è un qualcosa che ci fa sentire il nostro agio e che riequilibra un po' quei rapporti che tu citavi prima, Tamara, che invece sono un po' dall'alto in basso. Con Dio non è così, no? E anche l'Epistola parla di questo, parla dell'adozione, parla di cose che abbiamo già detto anche anticipato le volte scorse e quindi il nostro tempo presenta una cultura che contiene degli elementi che possono distrarci o allontanarci da invece quella potenza che lo Spirito Santo ci può dare, no? Allora, andando avanti mi colpiva per esempio nella parte di domenica un dettaglio importante della preghiera dell'Apostolo Paolo perché dice affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo il Padre della Gloria vi dia uno spirito di sapienza di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente quindi conoscere conoscere Dio e chiede che Dio possa illuminare gli occhi del cuore delle persone e sta pregando anche per noi, no? Questa preghiera vale anche per noi, no? Che Dio possa illuminare gli occhi del nostro cuore affinché sappiamo a quale speranza siamo stati chiamati e la ricchezza della gloria e della sua eredità che ci riserva tra i santi e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza quindi abbiamo bisogno di aprire gli occhi e di pregare perché questi occhi si aprano e quindi soltanto questo può dice la Scuola del Sabato favorire una conoscenza più profonda di Gesù no? Allora io mi chiedo ma noi preghiamo per questo cioè relativamente al nostro rapporto con la cultura in cui siamo immersi fare un soggetto di preghiera perché ci sono delle cose in cui siamo nati di cui magari come anche tu dicevi negli esempi che hai fatto magari non ci rendiamo conto e magari anche questo imprenditore non si rende conto dell'effetto di questa cultura in cui lui è cresciuto di come lo ha fatto diventare che lo ha talmente assimilato che lui assume quel ruolo verso i suoi impiegati no? Allora pregare per chi ha questa visione ma forse anche noi abbiamo bisogno di pregare perché lo Spirito Santo ci faccia vedere quali sono quelle cose che su cui mettiamo la nostra fiducia piuttosto che in Dio e volevo chiedervi abbiamo parlato del fatto che lo Spirito Santo è una potenza che trasforma cioè la sua capacità come persona di trasformarmi di cambiarmi di darmi un nuovo inizio di rielaborare anche nelle nuove situazioni in cui mi vengo a trovare il mio modo di vivere la fede no? Allora qui noi stiamo parlando dello Spirito Santo lo Spirito Santo non sta fermo no? Come dice va dove vuole soffia dove vuole sempre in movimento e noi come Chiesa siamo nati come movimento il movimento avventista e abbiamo questo concetto della verità presente no? Ma come si fa a conciliare da un lato la sperimentazione quindi questo movimento con dall'altro le abitudini tradizionali che magari ci portano a radicarci si crea si creano delle emozioni intorno a queste cose no? Ci vorremmo fare trasportare da questa potenza ci volemmo lasciare andare ma allo stesso tempo abbiamo un po' paura come funziona cosa dobbiamo fare? Rimane un attimo di silenzio perché è una domanda difficile è una domanda difficile però secondo me quello che possiamo fare è guardare indietro e vedere le volte in cui noi siamo riusciti ad aprire quella porta quello che il Signore ha fatto e questo ci può incoraggiare ad aprire altre porte della casa magari una stanza l'abbiamo fatta ripulire nel senso siamo rinati in un certo ambito della nostra vita anche spirituale altri ambiti sono più scuri ci fanno più paura oppure siamo talmente abituati siamo imbrigati nell'abitudine però penso che un affaccio su ciò che già il Signore ha fatto per noi può incoraggiarci a osare aprire quella porta verso qualcosa di nuovo però come nelle puntate precedenti Richard parlava della difficoltà del cambiamento quindi noi lo dobbiamo mettere in conto perché si parla spesso di rimanere nella zona di comfort anche quando si vivono dei grossi disagi e uno si chiede ma perché non lascia quell'ambiente dove c'è il rischio abuso dove no perché comunque muoversi verso qualcosa di nuovo ci fa paura no e a volte ci sentiamo quasi a nostro agio siamo abituati a subire anche delle cose ma le sappiamo no è come se in qualche modo potessimo controllarle e il Signore però ci chiede di fare un passo avanti ogni giorno e di uscire con Lui però per mano e delicatamente da quella zona di comfort però per andare verso il progresso con Lui andiamo verso una situazione e questo però vale sia a livello personale perché tu parlavi di stanze di situazioni però forse anche comunità cioè come comunità lasciarsi anche guidare dallo spirito se per esempio siamo una chiesa che non è mai cambiata nel corso non so di un certo numero di anni ma cambiata nel senso che non c'è stato un movimento che non c'è stato un aumento di persone nel senso che siamo sempre noi non ci siamo innovati non lo so come dire cioè in ogni situazione della vita c'è un miglioramento abbiamo per esempio gli stessi fiori finti da tanti anni sul pulpito oppure abbiamo non so non voglio fare altri esempi le stesse foto storiche ma non ne sono state aggiunte di recenti magari di un periodo e forse stiamo aspettando qualcuno ma noi come comunità potremmo fare questo momento ponderato di dire possiamo aprire una porta nuova quindi è difficile è difficile però c'è qualcosa che mi piace in Paolo no? c'è un versetto Romani capitolo 1 versetto 1 e vedi poi legge per noi se riesci Romani 1 versetto 1 e vediamo come Paolo si presenta Paolo servo di Gesù Cristo chiamato ad essere apostolo appattato per l'Evangelo di Dio vediamo come Paolo si trasforma poco fa abbiamo detto che lo Spirito Santo è una potenza trasformatrice quindi lo Spirito Santo ci trasforma ci cambia Paolo perché si presenta così si conosceva come era prima e si è lasciato guidare dallo Spirito Santo e quello il cambiamento viene da lì lo Spirito Santo agisce nelle comunità nelle persone ma noi dobbiamo arrenderci dobbiamo lasciarci guidare Paolo ancora in Romani sì Romani 8.14 dove dice tutti coloro che si lasciano guidare dallo Spirito Santo sono figli di Dio cioè io devo lasciarmi devo permettere lo Spirito Santo è disposto a trasformare la mia vita la mia persona ma se io sono aggrappato a qualcosa che non voglio lasciare andare la Chiesa può cantare può fare qualunque cosa questa trasformazione non succederà mai ad un certo punto noi dobbiamo lasciare andare dobbiamo arrenderci Gesù ci chiama di arrenderci solo in questo che la sua potenza può trasformare il percorso in cui stiamo facendo quasi ogni giorno della nostra vita perché la nostra trasformazione avviene attraverso una collaborazione con Dio Paolo ad un certo punto si è lasciato andare ad un certo punto e viene chiamato lui stesso si presenta e mi piace ma è un'introduzione che mi piace Paolo oggi servo di Gesù Cristo non potrebbe essere possibile nel passato però ad un certo punto si è lasciato guidare dallo spirito e adesso è stato appattato messo da parte per l'Evangelo noi possiamo arrivare anche a quel punto se ci lasciamo guidare dallo spirito si ci possono essere anche delle aree della vita dei peccati che non abbiamo lasciato e poi tutto questo magari si riflette nella nostra vita nella nostra famiglia nella nostra comunità che ci blocca grazie allora riguardo alla potenza trasformatrice di Dio noi ispirandoci a quello che dice Allan Gentil nel nocciolo della questione potremmo parlare anche riprendendo questa citazione che lui fa di Rohr che sottolinea che il testo di Efesini parla della potenza trasformatrice di Dio che è in grado di liberarci dalla schiavitù dell'ego e dell'autossessione qui non si tratta continua del Signore cosmico lontano ma del Cristo della mia vita e sostiene che il messaggio di Efesini quindi è un messaggio di guarigione e trasformazione che invita gli esseri umani ad abbandonare la loro vecchia identità e come i testi che hai sottolineato dell'esperienza di Paolo e ad aprirsi a una nuova vita in Cristo allora oggi ci sono tanti disturbi per esempio legati anche all'ansia ci sono dei disturbi proprio ossessivo compulsivi che nascono da questo fatto di vivere una sofferenza interiore non lasciarsi andare e di non lasciarsi guarire che cosa ne pensate queste persone che hanno un'identità ferita un'identità diciamo su cui la vita ha fatto ne ha fatto tanti pezzetti no? sì sicuramente è bella questa immagine di un Dio che se da un lato come dicevamo riunisce la terra al cielo quindi c'è questa unione quindi questo potere immenso questo stesso potere è al nostro servizio come dicevi nella lettura per riunire i pezzi di quello che noi siamo della nostra identità a volte ferita a volte smarrita e questo secondo me è un messaggio bellissimo mi viene in mente per poter comprendere come questo possa accadere anche il concetto di riconoscimento il concetto di riconoscimento è molto utilizzato soprattutto quando si fa riferimento al rapporto tra culture diverse o subculture diverse nelle relazioni interculturali è stato molto utilizzato da diversi sociologi e volevo proporre una lettura che viene data dallo studioso Axel Onet e lui individua tre livelli di riconoscimento il primo riconoscimento avviene in famiglia e lì quindi nel momento in cui i familiari ti riconoscono contribuiscono a creare la fiducia in te stesso a livello familiare poi il secondo riconoscimento è un riconoscimento che per esempio ti dà lo Stato ti riconosce come donna come uomo come immigrato che è venuto e quindi nel momento in cui c'è questo riconoscimento questo aiuta allo sviluppo del rispetto di sé quindi lo Stato mi riconosce quindi io ci sono non sono un fantasma poi c'è un terzo livello di riconoscimento che riguarda il riconoscimento che viene dato nei contesti amicali o lavorativi nel momento in cui le cose che io porto agli altri vengono ritenute interessanti valide anche se diverse ma che hanno un loro perché allora questo accresce la mia stima se questo manca non ho stima se mancano se manca il primo livello di riconoscimento si parla di misconoscimento nel primo caso nel maltrattamento noi abbiamo dei genitori o comunque chi ne fa le veci che non riconosce il bambino la bambina nella sua corporeità nella sua e questo sicuramente incide sulla fiducia in sé se invece nei diritti se invece lo Stato non mi riconosce nella mia posizione e questo inciderà su come io imparo a rispettare me stessa magari mi sentirò inferiore oppure mi sentirò superiore e ancora sulla stima di me influisce lo sguardo degli amici del gruppo amicale del gruppo lavorativo e la cosa bella in questo in queste immagini chiaramente che Axel non ha inserito è però il riconoscimento che ci viene dallo sguardo che è Dio ha su di noi e quello non ce lo può togliere nessuno anche se magari non abbiamo avuto riconoscimento dai genitori oppure dallo Stato oppure nell'ambiente in cui noi siamo il Signore ci ha riconosciuto ci ha riconosciuto come Suoi e quindi il suo sguardo ci fa comprendere la preziosità e questo contribuisce a rimettere insieme quello che noi siamo il nostro io disgregato perché negato in Dio trova se stesso in questo che tu stavi dicendo perché cercavo di collegarmi col messaggio cioè su questa citazione tratta dal noccio della questione che parla di una guarigione e trasformazione che invita gli esseri umani ad abbandonare la loro vecchia identità ad aprirsi a una nuova vita a Cristo io ci ho visto proprio quando tu parlavi in tutti i casi questo battimento dei muri che continua diciamo è anche un tema negli scritti dell'apostolo Paolo in particolare in Efesini cioè il muro del non riconoscere l'altro che diciamo è posto è lì e Paolo cerca di farlo abbattere da entrambe le parti cioè per esempio fare riconoscere la sua missione è stata a fare un ponte in modo che gli ebrei potessero riconoscere i gentili gli stranieri come anche loro un fatto che si è allargato allargato anche a loro in cui tutti sono inclusi ma allo stesso modo a volte io che sono diciamo la figura nuova a cui il fatto si è allargato potrei non considerare più da dove sto venendo il passato e potrei costruire anche lì un muro per separarmi è una cosa a doppio a doppio binario no? e poi un'altra cosa che mi aveva colpito di quello che tu dicevi era legato alla dimensione della famiglia perché mi chiedevo per esempio i ragazzi nelle nostre comunità sono riconosciuti dalla comunità adulta ovvio che li riconosciamo i ragazzi no? sono a volte i nostri figli i nostri nipoti cosa intendo dire no? certo riconosciuti secondo la definizione che davamo in quel senso in quel senso lì quindi tenendo conto delle loro caratteristiche della loro presenza del loro apporto del loro pensiero della loro progettualità oppure diciamo è come se loro quando vengono magari solo perché non sono ancora battezzati non facessero parte no? famiglia di Dio o ne facessero parte ad un livello inferiore no? sì tante volte questi giovani soffrono cosa succede nella loro mente no? nel corso degli anni io mi rendo conto che nelle comunità ci sono questi giovani che soffrono e non è per niente a volte durante sabato pomeriggio i ragazzi non vogliono rimanere in chiesa perché tante volte sembra che diversi dei nostri programmi sono centrati sugli adulti e i ragazzi non non si vedono non si trovano nelle comunità ghanese per esempio nelle comunità etniche etniche vediamo che spesso sono programmi fanno programmi ma programmi destinati agli adulti cioè i giovani sono lasciati da parte quindi spesso che cosa vediamo i ragazzi sono spesso con il cellulare con tablet dietro con questo tiktok mamma mia allora tutti finiscono lì sono lì si trovano bene su questo gadget anziché inserirsi nella vita della chiesa perché perché è la comunità stessa che presenta dei programmi che allontanano questi ragazzi non si trovano non si ritrovano va bene a volte i loro atteggiamenti ok qualche atteggiamento qualche adulto non ha presa non accetta quindi è meglio che loro stanno a laga però io credo che i ponti dobbiamo creare dobbiamo creare tanti ponti per raccogliere questi ragazzi che tante volte si sentono smariti nella comunità a me ha colpito ho avuto modo di partecipare recentemente a un incontro dove si chiedeva ai giovani di raccontarsi anche rispetto alla vita della comunità e in diversi è venuto fuori questa idea in realtà gli adulti non ci ascoltano a me sembrava quasi che fosse infatti ho fatto anche una domanda magari è anche un pregiudizio tu pensi che non ti vogliono ascoltare ma in realtà loro vorrebbero se tu parlassi e qualcuno mi ha detto no no ci abbiamo provato dice cosa dicono parliamo ah vabbè i ragazzi e poi vanno avanti cioè come per dire vabbè lo sappiamo come sono i ragazzi non si sono sentiti almeno in queste testimonianze non so quanto siano rappresentative di tutte diciamo le nostre chiese ma in queste testimonianze sembrava che non si sentissero presi sul serio questo non vuol dire che qualsiasi cosa proponga un ragazzo una ragazza debba essere per forza di cose accettato per voler essere inclusivi e della riconoscimento ma deve essere presa come una proposta seria perché quella è un'esigenza seria poi si valuterà nel dettaglio quanto sia percorribile perché giustamente poi bisogna anche fare le valutazioni però però sì diciamo che questo riconoscimento di cui tu parlavi può essere un riconoscimento nel momento in cui c'è un dialogo c'è un incontro in cui si parla ok ma sono le cose come sono fatte lo stato delle cose in cui ci si viene a trovare quotidianamente periodicamente che già in modo implicito implicito ma molto eloquente va a mostrare che c'è una frammentazione che c'è un non riconoscimento e la stessa cosa per esempio per alcuni stranieri che sono in Italia che penso per esempio a chi non viene riconosciuto come cittadino italiano alcuni ragazzini che sono nati in Italia ma che ancora oggi diciamo non sono né carne né pesce l'effetto che fa su una persona in crescita in formazione sentirsi in questo stato prima o poi darà un frutto e purtroppo non penso che sarà un frutto utile per la vita di questa persona perché crea una specie di schizofrenia crea un rigetto oppure un senso di c'è un vuoto nel senso di appartenenza di rabbia perché il misconoscimento diceva proprio Axel Onet alla fine crea rabbia e conflitto conflitto nel momento in cui tu non mi riconosci io mi faccio quelle mi presento nella maniera più irruenta no? perché cerco riconoscimento e mi ricordo anche una riflessione che aveva fatto una volta in Comitato d'Unione Gioele Muritu che aveva presentato il fenomeno delle baby gang e io avevo proprio trovato un articolo che definiva tra le motivazioni che portano queste baby gang a compiere degli atti di vandalismo o degli atti di bullismo così gravi anche che attentano la vita di persone che possono essere vagabondi o coetanei persone trovate per caso per strada proprio a questa voglia di farsi riconoscere di farsi vedere un tentativo disperato certamente non da giustificare però molti lo riferiscono proprio a questo fatto che sono ragazzi che non si sentono parte di un progetto più ampio quindi si sentono abbandonati si sentono abbandonati abbiamo toccato tanti temi però ecco nella tua risposta mi è venuto in mente mi sono segnata al versetto al capitolo 2 versetto 19 che viene dopo un percorso perché al versetto 13 intanto c'è un cambio di pagina perché quando dice ma nel testo greco dice ma ora ora è diverso ora in Cristo Gesù voi che un tempo eravate lontani siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo allora i nostri giovani gli stranieri che ci sono nelle nostre comunità le persone più tradizionali le persone che vengono magari da una cultura sono nuovi credenti quindi vengono da un magari una campagna evangelistica recente da degli studi biblici recenti che si sono fatti un'iniziativa quindi non hanno quella cultura avventista di famiglia no tutti devono essere avvicinati e Cristo l'ha fatto dobbiamo fare anche noi ma in particolare c'è il versetto 19 che è molto interessante perché dice allora aspetta leggo anche 14 egli infatti è la nostra pace colui che ha fatto dei due uno e ha demolito il muro di separazione lo ha abolito nella sua carne no prosegue però il versetto 19 è interessante perché ci sono proprio dei termini in greco dice voi dunque non siete più e i termini sono né forestieri né ospiti è bellissimo quando tu ti senti fuori dalla tua terra forestiero quando tu ti senti ospite che però non sei parte della famiglia tu sei di passaggio sì sei venuto dopo tre giorni l'ospite puzza lui dice qua voi non siete più questo ma siete e usa queste due parole concittadini dei santi quindi c'è la cittadinanza la cittadinanza è già data certo e poi c'è il membro della famiglia di Dio che è ancora più bello perché essere membro di una famiglia è una cosa straordinaria quindi sono proprio due termini cioè queste quattro parole due in una situazione incompleta che ci crea una mancanza un vuoto non facciamo parte siamo di passaggio all'altro che abbiamo trovato il nostro posto cosa possiamo fare noi nella chiesa perché tutti si sentano così no e questo è una bella riflessione allora quindi il tema è molto chiaro che prima eravamo lontani ora siamo vicini e arriviamo alla conclusione perché dobbiamo concludere Richard e Tamara gli operatori di Hopmedia ci ricordano sempre loro che ci aiutano li ringraziamo di rimanere un po' nei tempi c'è la parte di mercoledì che parla di Cristo al di sopra di ogni potere e si parla anche del fatto che queste persone a cui Paolo si rivolge erano convinti che le forze oscure presenti nei luoghi celesti fossero lì nell'atto di creare dei problemi e mettere il bastone fra le ruote però con queste parole di Paolo vengono incoraggiati nel capire che invece la potenza di Cristo è superiore a queste cose e che quindi non c'è paura non c'è paura dei muri non ci deve essere paura di quello che non conosciamo perché Cristo ci ha liberati con quello che ha fatto e la sua potenza è superiore a tutte queste cose e io l'ho vissuto questo nella mia vita però a volte me lo dimentico cioè è una cosa pazzesca non so voi l'ho conosciuto l'ho studiato nella Bibbia l'ho visto in azione nella mia vita però è un qualche cosa che la nostra mente tende a a volte a dimenticare e nascono nuove paure nuove fobie quindi penso che per salutarci dobbiamo pensare a questa potenza in grado di abbattere muri di separazione e anche in grado di abbattere quelle potenze che vogliono creare questi muri e non dimenticarcelo forse tra di noi chi ci segue anche noi che siamo qui abbiamo proprio un esempio eloquente nella nostra vita che ci fa paura ci fa soffrire mettiamoli nelle mani di Dio e Lui è potente da poterci liberare l'ha già fatto è che non è facile ecco non vogliamo dire che sia semplice ma dobbiamo avere fede chiederla bene carissimi vogliamo concludere questo studio molto appassionato questa lezione 3 stiamo entrando dopo le prime lezioni un po' introduttive generali un po' nel cuore e avremmo ancora altri temi allora prima di salutarci voglio ringraziare Richard Deussu e Tamara Pispisa per essere stati con noi l'appuntamento al prossimo incontro ringraziamo anche voi che ci avete seguito che il Signore vi possa benedire e un ultimo suggerimento di andare sul sito della Scuola del Sabato a Ministeri Personali poter consultare gli strumenti a vostra disposizione c'è un powerpoint didattico ci sono delle schede in diverse lingue per dialogare in gruppi e c'è il nocciolo della questione c'è anche il rapporto missionario che contiene storie di tante persone che avevano dei muri nelle loro vite delle sofferenze e hanno trovato in Cristo quella potenza capace di dare un senso alla vita di farli sentire parte di un grande progetto e quindi di avere un passato un presente un futuro di speranza vi abbracciamo e vi diamo appuntamento al prossimo incontro arrivederci a Grazie a tutti.